Salve a tutti, mi chiamo Abiko Show, ho 29 anni, di origine giapponese, come mestiere faccio il cuoco. Lo sport l'ho incominciato all'età delle medie, con il basket e il jiu-jitsu. Il palestinix l'ho incominciato dieci mesi fa. L'allenamento mi baso sulle skill, su cui front level, back level, handstand, planche e human plug. Il programma di allenamento alla settimana mi baso su queste skill e sulle proprie teutiche. La mia dieta è basata di solito da cose naturali. Cerco di non prendere integratori e proteine. Vado sempre sulle cose naturali. Siccome sono un cuoco, cucino di me. So cosa prendere, so quanta proteina prendere al giorno. Un consiglio che posso dare ai ragazzi è di continuare con il calisthenix. All'inizio il dolore o comunque la stanchezza vale per tutti. L'importante è avere la mentalità di mantenere il ritmo costante e di sapere. Poi il risultato verrà a seguire. Grazie a tutti e a vederci. 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 Grazie a tutti e a vederci.